Musica Dopo il latonfo del Victor San Marino in casa del Cavaronco si è inevitabilmente riaperto il campionato di eccellenza con il San Paimo la prima inseguitrice che mette pressione ai Titani la squadra di Mister Orecchia, reduce dal successo sul Sant'Agostino, ospita il Diego Vittorioso contro il Classe nell'ultimo turno di campionato Andiamo con le immagini al 27esimo, sono gli ospiti a rendersi pericolosi con questo corner ribattuto il pallone che torna tra i piedi di Lorusso il tiro cross messo in mezzo deve respingere quei guantoni Valdani e poi l'Abitro fischia un fallo proprio per carica sul portiere al 31esimo un'azione che sembra fotocopia ma l'esito è diverso perché proprio dal corner dalla sinistra l'incornata vincente come possiamo vedere anche dall'esultanza come una toro è quella di Casalboni al terzo gol in campionato una rete che come sappiamo appunto dal risultato finale risulterà decisiva nel match tutta l'esultanza per gli ospiti che ora devono far fronte alle azioni dei padroni di casa intenti a appunto trovare il pareggio ma come vediamo ora il Sampa Imola riesce a recuperare, a fermare un contropiede, a ripartire lanciando in profondità Simone Alessandrini che cerca di fare tutto da solo, entra in aria, prova la conclusione a sorpresa ma viene ovviamente respinto dal difensore del Diegaro sempre nella prima frazione di Zocco passiamo con le immagini dal 33esimo al 38esimo con il Sampa Imola che ovviamente cerca in tutti i modi un forcing ai danni del Diegaro un lancio in profondità, il pallone che viene frapposto dalla difesa del Diegaro ma alimenta l'azione ancora la squadra di casa, ancora la squadra di Mister Orecchia ma il Diegaro in tutti i modi cerca di limitare i danni, cerca di spazzare via il pallone e addirittura cerca una conclusione da fuori, pericolosissima, Sabbioni che centra la traversa nella ripresa però ancora il Diegaro pericolosissimo da calcio d'angolo questa volta con panza volta il salvataggio arriva sulla linea per quello che poteva essere il raddoppio dei Cesenati mentre al 13esimo il disimpegno sbagliato da parte del Sampa Imola favorisce il Diegaro con un'azione personale dalla destra, tutto solo, Longobardi ci prova e respinge con i guantoni Baldani, minuto 25, il Sampa Imola alza il tiro con questo cross messo in mezzo il respinto della difesa, poi ancora il pallone che rimane lì il tiro in seconda battuta realizzato da Simone Alessantrini che esce di poco al 32esimo e ancora il Sampa Imola in tutti i modi a cercare un sperato pareggio l'azione messa in mezzo, il tiro in scivolata tentato da Simone Alessantrini che non riesce però a trovare la conclusione vincente mentre proprio sul finire di gioco siamo infatti negli ultimissimi minuti di recupero addirittura al 52esimo il forcing finale da parte del Sampa Imola il cross messo in mezzo alla conclusione di Carbone che esce di poco e arriva proprio in questa azione il triplice fischio della direttore di gara che sancisce la vittoria del Diegaro sul campo del Sampa Imola per 1-0 grazie a tutti